Cosa ci fa un uomo in giro sulla superficie? Mio padre mi ha spedito a scoprire cosa vanno macchinando quei furfanti... Chi? Ioni! La felicità vera, assoluta... Che l'uomo era la più perfetta creatura dell'universo! Appaiono preziosissimi ai marinai, solo perché ne sono primi! Si accorse che era una forma smisurata di donna seduta in terra... Tornato in me stesso, ho capito! Vi piacerebbe tornare a vivere questi vent'anni e tutto il tempo andato dal giorno in cui siete nati? Ho sempre l'intenzione a tutt'altro che alla felicità o infelicità degli uomini... E ciascuno in questo tempo è più desideroso che mai di ritrovare nella sua mente ambizioni gioiose e pensieri dolci. Allo stesso modo non resterà neppure un'impronta del mondo intero.